Dopo due anni di pandemia covid, signori, ancora ci sono delle preoccupazioni legate a tante cose brutte, tipo la guerra in Ucraina, e sono in molti infatti a sperare che quest'anno, che tra poco arriverà, possa in qualche modo regalare qualche buona notizia o qualche buona cosa. E queste sono anche delle settimane dove, magari per pura curiosità, ci si butta anche l'occhio all'oroscopo per capire qualche buona, si spera novità che ci attende per il prossimo anno. Altri invece si affidano alle famose profezie di Nostradamus che ogni anno, in questo periodo, generano delle discussioni tra chi crede in quello che furono le presunte capacità divinatorie e che chi invece bolla i suoi scritti come delle semplici fantasie. Ma, dopo tutto, l'astrologo francese non ha mai avanzato predizioni precise e le sue quartine risultano alquanto ermetiche. Nelle uniche tre occasioni in cui ha espresso chiaramente una data, quegli eventi non si sono, poi, alla fine, mai verificati. A quasi 500 anni dalla sua scomparsa, il mondo ancora si interroga su quanto ci sia di vero nelle profezie di Nostradamus. Secondo chi interpreta le scritture di Nostradamus, il 2023 sarà ricco di cattive notizie. Come se non bastassero il virus, il coronavirus e la guerra in Ucraina che ancora non ci siamo lasciati alle spalle. Ma una delle predizioni più brutte per l'anno nuovo riguarda proprio una guerra nucleare, con tutte le conseguenze che ne scaturirebbero per l'intera umanità. Ma, contrariamente a quanto si possa pensare, lo scontro atomico non riguarderebbe la Russia e gli alleati NATO, bensì Taiwan, pensate. A scontrarsi in quel caso sarebbero Cina e Stati Uniti, in una contesa con conseguenze catastrofiche. Tornando alla guerra in Ucraina, quindi una cosa molto di attualità, ma non ci sono solo cattive notizie. Dalle profezie di Nostradamus si evincono, per così dire, anche liete novelle. Eh sì, secondo lo scrittore francese, il 2023 sarà l'anno buono per vedere l'uomo su Marte. La profezia prende spunto da una breve locuzione, cioè luce su Marte. Ma c'è una cosa che invece noi conosciamo bene, d'altro canto, che sono i progressi spaziali, che non sono così avanti per poter veramente far verificare che l'uomo sarà su Marte. Diciamo che potrebbe diventare in realtà, ma non in un lasso di tempo, tanto breve. Quindi, anche in questo caso, molto probabilmente non ci azzeccherà. Allora, questo è tutto per questa breve news. Quindi questo è quello che teoricamente ci si dovrebbe aspettare, ma a cui nessuno praticamente crede. Questo è tutto per quanto vi riguarda. Noi ci sentiamo alla prossima, sempre qui.